No! Mani in alto! Subito! Mi prego! Sta ferma! Occupati di loro! Fa stare zitto al bambino! Libero! Ultimo piano! Vai avanti! Chiusa! Ci penso io! Cerchiamo di catturarli vivi! Giù! Sta giù! Non sparare! Ti prego! Volevano uccidermi! Mi hanno chiuso qui dentro! Spara! Libero! A tutte le squadre! Edificio sicuro! Sopra luogo! Porca puttana! Voleva il detonatore! Ma l'abbiamo fermata! Abbiamo fatto bene! Decisamente! Sappiamo dove si trova il lupo! La palazzina di Alcatala era una miniera d'oro! Abbiamo trovato il lupo! Il portatile ci ha condotto all'ospedale Ramasa in Nuzikstani! Crediamo che il leader di Alcatala sia lì! Le truppe di Farah monitoreranno i terroristi all'ospedale mentre una squadra di terra di Marine avanzerà sul complesso! Ecotre-1 catturerà il lupo per interrogarlo sul gas russo rubato! Non è vero! Il gruppo di Alcatala è stato sfruttato il marchio! Non è vero che il numero di uomo! Ma l'abbiamo trovato! Ma l'abbiamo trovato da fare... Al-Katala sta sfruttando i civili come fossero scudi. Proteggono qualcuno. O qualcosa. Più scopriamo... Via libera, Farah. A dire il mio cecchino migliore. Conta pure su di lui. E su tutti gli altri. I Marine vogliono un po' d'azione. Guideranno l'assalto. Ti ho detto che avremo aiutato. E sei di parola. Non è per quello che lo faccio. Per gli invasori del mio paese, la vita umana non ha valore. Il gas uccide tutto. Anche il cibo che coltiviamo. Chi usa queste tattiche è mio nemico. Nessuna eccezione? No. Al-Katala ci ha rovinato la reputazione. Abbiamo pagato cari i loro crimini. Il lupo va punito. Farò in modo che tu sia all'ambasciata durante la consegna. E tu? Dove andrai dopo tutto questo? Ovunque mi manderanno. Non puoi scegliere. Non proprio. Riposa. Domani sarà dura. E tu e i tuoi uomini? Saremo qui fino all'alba. Copro l'angolo sguarnito. L'ospedale è in fondo alla strada. Mezzo chilometro. Io vado insieme ai marine. Ecco 3-1. Sergente Griggs. Ce l'hai davanti? Chiamami Alex. No, niente locali. Non decido io. Sei Karim? Ce l'hai davanti. Bel lavoro contro i russi. Amici e nemici in comune. E tu? E tu? Bacana riva. Ci amo Alex. E mon docks! E ora di scatenare il caos! Hurra! Beneš. No, l'hai davanti. iedziglio?